Sono cominciate nei giorni scorsi, come anticipato da Torino Cronaca, le operazioni di bonifica dell'ex circolo ricreativo e sportivo Ettore Valli di Via Stradella, un tempo storico punto d'incontro per la vita notturna, oggi invece ridotto al pari di un monumento al degrado. Le operazioni sono condotte dall'ultimo presidente, Tony Campa, che per anni si è battuto nella speranza di riportare il circolo agli antichi splendori. In parallelo è iniziato anche un percorso di progettazione partecipata con i cittadini da una parte e il comune di Torino dall'altra. L'obiettivo è dare un futuro all'area.